Ma c'è un problema che riguarda il turismo, ovvero la rete dei trasporti, soprattutto per ciò che concerne i voli passeggeri. C'è una nota a firma dei responsabili dei movimenti Aeroporto Magna Grecia, Walter Fischetti e diritto di volare Alfredo Luigi Conti, nella quale si legge che l'assessore Capone non considera infrastruttura nazionale per passeggeri il nostro aeroporto. Il piano strategico del turismo 2016-2025, infatti, da presentare all'Unione Europea, non dà alcuna rilevanza all'aeroporto Arlotta, mentre potenze e infrastrutture tese a collegare meglio soltanto i due aeroporti di Bari e Brindisi. Nel piano turistico, messo in discussione quindi per arrivare e sviluppare la Puglia, esistono soltanto gli aeroporti di Bari e Brindisi. Il sconcerto viene espresso dunque dai responsabili dei due movimenti, che peraltro avevano ricevuto delle rassicurazioni dal ministro del Rio lo scorso 15 marzo durante una sua visita proprio all'aeroporto. Avevamo chiesto che l'aeroporto fosse promosso come strategico in cogestione con Bari, come avviene a Firenze e Pisa, proprio per avere maggiore rilevanza europea. In Puglia invece si conferma l'ostilità dei conterranei politici che ci rendono invisibili proprio per non darci i voli di linea passeggeri.